Appuntamento con la storia per il caro tenuto e mandamentale di mister Bianco al Gobbato di Pomigliano si giocano la finalissima di Coppa Italia Campania di promozione. Alle ore 18 un popolo, quello rosso-nero, dopo aver gioito per il ritorno in eccellenza dopo 23 anni, ha chiesto alla squadra adesso l'ultimo sforzo di alzare al cielo il trofeo tricolore. Sono stati polverizzati i tagliandi che Patrona De Lucia ha donato alla torsida rosso-nera ed i fedelissimi di Mugliano del Cardinale promettono uno spettacolo di tifo. Dall'altra parte ci sarà il Villa Literno con il guru della panchina Raffaele De Pasquale che nel fine ha lasciato il segno riportando il grotta dalla promozione all'eccellenza. Per il tecnico partanopeo un albo d'oro di tutto rispetto che ha portato a casa quattro campionati di promozione, tre di eccellenza, due Coppe Italia-Regionali ed il titolo di campionato d'Italia, Juniores, con il comprensorio frattese. Mister Bianco si affida alla verve realizzativa del trio delle meraviglie, Simeri di Alloschettino. I casertani invece al bomber dei bomber Gaetano Annunziata che ha segnato 20 reti in campionato. L'attaccante sarà supportato da un altro top player della categoria, Pasquale Scilzo. Inoltre i rossi di terra di lavoro annoverano nelle loro fila l'ex città di Avellino Dario Scogna Miglio e il difensore Daniele Silvestro, lo svedese del calcio del tante campano. Insomma, a bando alle ciance alle 18 il gobbato di Pomigliano è pronto a colorarsi o di rosso-nero o di bianco-rosso.